Anticipazioni tempesta d'amore, trama puntate, lunedì 13 settembre 2021. Vanessa si sta innamorando di Max, ma teme di incassare l'ennesima delusione sentimentale sullo stampo di Robert. I due si danno appuntamento per incontrarsi nel pomeriggio. A causa di un impegno di lavoro, il Richard è costretto a contattarla per rimandare. La zombie Claire poi scopre che il ragazzo si è recato in un rifugio di montagna con Shireen. Fulibond decide di seguirli. Arrivata sul posto, la giovane tira un sospiro di sollievo. Max in realtà ha soltanto aiutato la Seylan a recuperare un oggetto smarrito. Il fitness trainer poi afferma di non sopportare la gelosia di Vanessa. Maya piange disperata dopo che Florian ha posto la parola fine alla loro storia d'amore. Pertanto prende una difficile e sofferta decisione. La ragazza vorrebbe staccare la spina per qualche giorno, ma il troppo lavoro glielo impedisce.